Casa circondariale di Teramo nuovamente sotto l'occhio del ciclone per le carenze strutturali che perdurano da troppo tempo e questa la denuncia emersa dopo l'iniziativa agosto in carcere 2023 promossa dai radicali da parte di diversi esponenti politici. La di Pasquale del Partito Democratico rimarca l'ottimo lavoro dei dipendenti e degli agenti della Polizia Penitenziaria evidenziando però come il sovraffollamento e soprattutto le condizioni strutturali e igienico-sanitarie del carcere siano in condizioni non accettabili. Intanto io penso che ascoltare sia uno dei motivi più importanti di questi incontri in carcere durante il periodo estivo soprattutto nel periodo d'agosto. Che cosa abbiamo riscontrato? Intanto c'è un personale eccellente che svolge al massimo tutto il suo lavoro e di supporto anche ai detenuti ma sicuramente una struttura che ha 160 per cento di detenuti sopra il tetto massimo possibile e che ha comunque una carenza evidente del quasi il 30 per cento del personale operante è chiaro che questo crea naturalmente una situazione di disagio. Se a questo aggiungiamo che la struttura calceraria comunque è una struttura di qualche anno fa e che quindi ha delle carenze proprie come per esempio la mancanza di acqua calda all'interno delle celle come quattro docce per uno stesso ramo e cioè a disposizione di più di 12 celle e quindi di più di 24 detenuti soprattutto nel periodo estivo. Nel fatto che il numero alto di presenze determina l'impossibilità di gestione non solo dei prodotti che entrano per i detenuti ma anche nel fare le telefonate che sono ovviamente limitate ad una settimana per un parente è chiaro che c'è un disagio che va assolutamente superato. L'esponente democratico infine traccia la strada per cercare di superare le problematiche descritte ovviamente partendo dalla richiesta di una riforma carceraria al passo coi tempi che da troppo tempo tarda ad arrivare. Intanto tenere alta l'attenzione sul problema perché comunque è un problema poi è chiaro che occorre una riforma strutturata della procedura penale soprattutto della pena e occorre anche realizzare case circondariali più adeguate al passo dei tempi e poi nella nostra struttura quantomeno fare degli interventi di dirizi che possano mettere e prevedere per esempio le docce all'interno di ogni cella che è un progetto che la casa circondariale ha già avanzato al ministero ma che purtroppo ancora non è finanziato quindi sicuramente occorre molto impulso perché almeno queste piccole cose nel medio termine possono essere fatte. Nel lungo termine occorre una riforma del sistema carcerario, una riforma del tipo di pena da applicare perché è educativo del condannato e poi ovviamente anche nuove case circondariali.